Good morning Milano continua, continua con gli ospiti, abbiamo qui con noi un consigliere regionale perché stiamo parlando di... in realtà dobbiamo parlare di un tema, poi invece vedrete che nella mattinata ne svisceremo molti. Buongiorno a Luca Paladini, buongiorno Luca. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti. Allora Luca Paladini, consigliere regionale ormai da... da marzo 2023, quindi festeggiamo un anno e mezzo. Ah bene bene, un anno e mezzo, si incominciano a prendere le misure, dai si incomincia a capire come muoversi. Sì, all'inizio sembra di atterrare sulla luna, nel senso che poi se è la prima volta che vivi un'esperienza del genere devi davvero prendere un po' le misure del luogo nel quale sei e capire anche l'importanza di essere uno dei legiferatori di una regione con 11 milioni di abitanti. Adesso è passato un anno e mezzo, credo di avere accumulato una discreta esperienza e di lavorare nell'interesse della collettività. Ovviamente io lo faccio dall'opposizione, questo è il pezzettino che mancava, sono consigliere regionale ma non sono fra quelli della maggioranza, sono di una lista civica che sta all'opposizione però insomma vediamo di farci valere ovviamente seguendo la linea dei nostri principi e dei nostri valori. Ti ho voluto qua perché qualche settimana fa è uscito sui vari giornali, i vari report che hanno a che fare con le carceri in Lombardia e è un tema che abbiamo toccato più volte anche con altri consiglieri con anche i parlamentari europei, insomma è un tema che cerchiamo spesso di sviscerare perché se ne parla troppo poco. Sta di fatto che si scopre per l'ennesima volta, mi viene da dire che insomma la situazione carceri soprattutto in Lombardia sta diventando sempre più insostenibile. Qual è lo scenario attuale? Allora sì, la situazione è insostenibile in tutto il paese, in Lombardia lo è in maniera esponenziale io sono vicepresidente della commissione carceri in regione, è un ruolo che spetta l'opposizione e da vicepresidente della commissione carceri uno dei compiti è quello di andare in visita ispettiva nelle varie istituti di pena e ogni volta che vado quello prima mi sembra meno peggio di quello che vedo San Vittore, Beccaria, Beccaria quello minorile, Monza vigevano, Brescia, Euro vigevano è una gara a qual è il posto peggiore. Ma annetto che ovviamente sono istituti di pena ma anche di rieducazione perché ce lo dice la nostra Costituzione, quello non è semplicemente è un luogo nel quale tu sconti giustamente una pena, ma è anche un luogo di rieducazione perché non è che abbiamo a che fare con solo degli orgastolani, abbiamo a che fare con tantissima gente che poi verrà rimessa nel giro del circuito sociale. La cosa impressionante è ovviamente il primo dato è quello del sovraffollamento. Che non vuol dire un paio di persone in più, cioè è un vero sovraffollamento giusto? Guarda, Brescia da questo punto di vista mi ha impressionato più di altri posti, io sono entrato in una cella dove erano in 15, 15, in una cella di 10 metri quadrati, con un bagno alla turca solo per tutti e questa roba qui forse neanche nel terzo mondo. Quindi nel momento in cui, adesso fammi divagare, diciamo leviamo la salis dalle carceri ungheresi perché non esiste che venga trattata in quella maniera, non è che qua in Italia si è ammessi molto meglio. Cioè 15 persone all'interno di un carcere, di una cella scusami, è una condizione da paese che non rispetta i diritti umani. C'è una frase di un filosofo dell'Ottocento che dice il grado di civiltà di un paese si misura dalla situazione delle proprie carceri e se noi dovremmo misurare lo stato di civiltà di un paese, in questo caso dell'Italia, dovremmo dire che il risultato è scadente. Ma cosa porta al sovraffollamento? Ma non parliamo del... ci sono due persone in più rispetto a quelle che sarebbe la capienza, qui parliamo di 220% in più, io ho qua i dati. 220%? Cantò Montbello, quindi parliamo di Como, al 204% in più di quelli che dovrebbe avere. San Vittorio al 180% in più di quelli che dovrebbe avere. Varese al 227% in più di quelli che dovrebbe avere. Capisci che sono numeri nei quali c'è... Impressionanti infatti. Ma questo perché? Perché la gente comune dice perché? Perché siamo un paese di criminali. si dovrebbe fare questa, l'idea è quella, no? Messa così sembra che viviamo appunto... Nei peggiori bar di Caracas, come si diceva, no? Esattamente, esattamente. In realtà quello che dal mio punto di vista, dal punto di vista anche dell'opposizione in regione, e poi magari ne parleremo in rapporto a un consiglio straordinario che ci sarà martedì, tantissima gente è lì ma non dovrebbe stare lì. In che senso? Nel senso che siamo di fronte, ovviamente c'è una quantità impressionante di persone con problemi legati alla tossicodipendenza, ma quelle persone che magari devono scontare pene anche molto brevi, sei mesi, un anno, e che però gonfiano le carceri, dovrebbero esistere i CERP in grado di permettere delle soluzioni alternative al carcere. Viaggiamo sul 30% di persone che hanno problemi, disturbi importanti di salute mentale. Quelle persone non dovrebbero stare in carcere, dovrebbero stare in altre strutture. Il carcere dovrebbe essere un luogo nel quale ci stanno le persone che hanno una condizione psicofisica che ovviamente è compatibile con un luogo come il carcere, ma se no devono esserci dei luoghi alternativi al carcere. A partire, ripeto, da tossicodipendenti per inquadrare il fenomeno, che non è che devono se c'è problemi, ragioniamo su piccolo spaccio, ragioniamo su consumo, su abuso, su questa roba qui, ma è tutta gente che ovviamente dovrebbe trovare delle strutture alternative nell'ambito sociale nel quale riuscire a espletare quello che è il percorso di reeducazione e di reinserimento nella società. E poi dobbiamo ragionare. Io mi rendo conto che sono argomenti tra l'altro anche molto poco popolari, non è che guadagni i voti, parlare di diritti delle persone detenute, figurati. E' una questione invece molto complicata con le cacce di fatti. Fabio, ci conosciamo da una vita e sai che io tratto storicamente temi abbastanza di minoranza, però i diritti delle minoranze... Era interista anche quando l'Inter perdeva, quindi già questo fa capire, no? Questa è discreta, questa è discreta anche se poi... Forse è la minoranza più grande nella quale sento di appartenere, quella di essere interista. Tutto il resto invece è minoranza vera. Però è importante invece ragionare anche su... Ma è importante anche perché noi non possiamo pensare... Appunto perché poi questa gente poi esce. E se tu non hai creato le condizioni per rimettere... Per ridare dignità a delle persone che tornano in mezzo alle nostre strade, tu semplicemente hai una situazione per il quale il grado di recidiva, cioè il fatto che tu esci e poi torni a delinquere... Delinquere di nuovo. Perché tu devi lavorare già all'interno delle carcere per la formazione, la capacità magari di farli lavorare, perché ci sono i lavori socialmente utili nei quali le persone escono dagli istituti di pena, lavorano durante il giorno, quindi si fanno un loro know-how che gli permette poi una volta fuori di provare a inserirsi nel mondo del lavoro. Perché se no siamo di fronte al fatto che semplicemente il carcere è una porta girevole dove tu entri, esci, rientri, riesci, ma così non si vada da nessuna parte. Immagino che comunque avrete anche già pensato a delle proposte, delle soluzioni, soprattutto perché martedì 8 ottobre appunto ci sarà un consiglio regionale speciale proprio sul tema carceri a primo firmatario sei tu. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone, perché appunto continuiamo a parlare di carceri. Sì, sapete, è un tema, come diceva Luca poco fa, che non è facile trattare e che spesso non si vuole trattare. Ricorderò sempre quel professore del Politecnico di Urbanistica che un giorno venne qui in trasmissione e disse beh, quando noi diamo un compito da fare in primo anno ai nostri studenti per pensare la città immaginare, la città perfetta secondo loro, vengono messe tutte le facilities in una città, vengono messi gli ospedali, viene messo anche il cimitero, ma quasi nessuno mette il carcere. Per farvi capire quanto veramente è lontano e distante dal nostro pensare di tutti i giorni. Viola Valentino con comprami alle 8 e 26 minuti, Cristian Radio, Good Morning Milano. Dicevamo con Luca Paladini, appunto consigliere regionale, vicepresidente della Commissione Carceri, giusto, ok? Che appunto sei il primo firmatario per questo consiglio regionale speciale, come si chiama? Straordinario, scusami, sul tema carcere, appunto, che verrà martedì. È la prima volta nella storia della regione Lombardia che facciamo un consiglio straordinario su questo tema e non ti nascondo una certa, come dire, soddisfazione, perché non era facile portarlo a casa. Poi non ci accontentiamo di fare quattro ore nelle quali parliamo e basta. L'obiettivo concreto che ci diamo come opposizione è quello di lavorare insieme alla maggioranza, perché inevitabilmente la matematica non è un'opinione, bisogna dei voti anche della maggioranza, è riuscire a strappare delle cose che siano utili alle persone, attenzione, alle persone che stanno in carcere, ma anche a chi lavora in carcere. Anche a chi lavora in carcere, perché il burnout di chi sta in carcere 12 ore, parlo della polizia penitenziaria, parlo di chi fa il medico, di chi fa l'infermiere, di chi fa l'educatore. Cioè è una situazione pesante per tutti. Abbiamo 70 suicidi dall'inizio dell'anno tra le persone carcerate, che è un dato incredibile. Cioè tu affidi allo Stato delle persone e 70 muoiono, ma abbiamo anche 8 poliziotti suicidi. Quindi è un quadro disperato da tutti i punti di vista. Noi ci occupiamo di chi sta in prigione, ma ci occupiamo anche di chi lavora nelle prigioni. E la speranza è che si possa lavorare insieme, maggioranza d'opposizione. Quindi può essere un primo buon tassello, quello appunto di martedì 8 ottobre, con questo consiglio straordinario appunto sul tema carceri. Una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo sempre qui su Crystal Radio con Luca Paladini. Selena Gomez con Single Soon alle 8 e 36 minuti. Crystal Radio, Good Morning Milano. Sempre qui in diretta. Luca Paladini, consigliere regionale dell'opposizione. Buongiorno, buongiorno ancora Luca. Parlavamo appunto di che il martedì 8 ottobre ci sarà questo consiglio regionale straordinario sul tema. Le proposte però quali potrebbero essere? Cioè cosa si può fare? Nel senso dobbiamo costruire più carceri, dobbiamo liberare tutti, dobbiamo... Abogliamo il carcere? Come facciamo? Nessuna di queste tre cose. Ecco perché io non faccio consigliere regionale, lui sì, ecco. Non dobbiamo aumentare il numero di carceri, dobbiamo aumentare i luoghi appunto, come dicevo prima, di strutture alternative al carcere. Non dobbiamo liberare tutti perché è giusto che ci sia la certezza della pena di fronte a una sentenza definitiva. Dobbiamo rafforzare le misure per cui ci sia una diminuzione delle persone all'interno dei carceri con luoghi appunto per persone che hanno determinate caratteristiche. che prima ho fatto un chiaro riferimento alle persone con problemi di sanità mentale e con persone che hanno problemi di tossicodipendenza e dobbiamo fare in modo che dentro le carceri ci sia quanto più sociale e sanitario possibile, quindi educatori, quindi mediatori linguistici. Sembrano stupidata, ma abbiamo ovviamente, mica lo nego, una quantità di persone straniere all'interno delle carceri, ma se non abbiamo i mediatori linguistici che fanno appunto da intermediari tra chi sta dietro le sbarre e un poliziotto della polizia penitenziaria, creiamo un ulteriore problema di fronte all'incomunicabilità di esigenze che non si capiscono fra di loro. Gli educatori, i mediatori linguistici e culturali all'interno di un carcere sono fondamentali ovviamente. Quindi noi parliamo di cose molto concrete, aumentare i presidi sanitari nelle carceri per evitare i suicidi, dare più soldi alla polizia penitenziaria, perché appunto... Dentro la parola magica, soldi, dicono che non ce ne sono, però come si fa? No, invece bisogna trovare le condizioni per chiedere al governo di fare un intervento importante che incentivi anche il Beccaria, da questo punto di vista, è un caso proprio scuola, che insegna come... Immagino, magari ne avete parlato in questi anni di quello che è successo al Beccaria. Sì, ultimamente ma è succedendo di tutto. È succedendo di tutto, ma io che sono andato più volte in visita rispettiva al Beccaria, uno dei problemi è che l'età media dei poliziotti di polizia penitenziaria e Beccaria ci aveva 28-30 anni, gente completamente inesperta, e tu ti ritrovi ad essere contrapposto a dei ragazzi che non riconoscono l'autorità in te nel momento in cui vedono un ragazzo quasi della tua età. e questo contribuisce ovviamente a creare una situazione di... Ma questo perché? Perché nessuno vuole andare a lavorare nelle carceri, non ci vogliono andare i medici, non ci vogliono andare gli infermieri, non ci vogliono andare la polizia. La polizia tende a non andare in quei luoghi più pericolosi o comunque dove appunto il burnout è più marcato. Che tu continui a seguire appunto minoranze o luoghi in cui nessuno ci vuole andare lo testimonia anche il fatto che un altro tema che hai seguito, nonostante non sia un carcere, sono i CPR, ad esempio. Ma sì. Ecco, ricordiamo, non è un carcere il CPR? Allora, invece sì. Invece sì, assolutamente, nel senso che lì ci sono celle. Ma la cosa per cui cerco anche in questo studio degli spigoli sui quali sbattere la testa è che se mentre in un carcere ci stanno persone tendenzialmente che hanno compiuto dei reati, lì non ci stanno persone che hanno compiuto dei reati. Io quando vado nel CPR mi si avvicinano, le persone mi dicono ma perché io sono qua dentro? E io una risposta non gliela so dare, o meglio, la so e ovviamente non la condivido. Hanno inventato il reato di detenzione amministrativa. Quindi tu, semplicemente perché non hai un documento con le firme corrette, perché ti è scaduto da due mesi, potenzialmente puoi finire in un carcere restarci un anno, due anni, ma tu capisci che è una struttura del sistema di uno stato di diritto, l'idea che tu vai fondamentalmente in galera, tra l'altro le condizioni del CPR di Via Correlli te le raccomando, ma non hai commesso reati, non hai commesso reati, hai un foglio scaduto e non può passare da una detenzione. Cioè, ho detto detenzione che dovrebbe essere propedeutica, diciamo così, al poi rimpatrio, che poi però non avviene quasi mai, giusto? I numeri poi cosa dicono? Esattamente. Ma perché ovviamente? Ecco quello che non capisco. Ma perché i rimpatri sono una cosa, prima di tutto costosissima. Prima di tutto necessitano di accordi fra paesi di provenienza e paesi che ti vuole spellere. Io non posso comprare il biglietto della raya nera a quello lì e mandarlo al suo paese, ha detto male. Ma tu sai anche quanta, come dire, ostracismo c'è da parte dei consolati e delle ambasciate a collaborare perché ovviamente poi non li rivolgono neanche loro determinate persone. Quindi c'è tutto un processo. Però, ripeto, non è che stiamo poi allontanando dei criminali perché i criminali stanno in galera. Noi stiamo eventualmente spellendo gente che semplicemente magari ha... Io ho parlato con un ragazzo marocchino e era stato in galera ha espiato la sua pena nel frattempo gli è scaduto il permesso di soggiorno è uscito dalla galera aveva un pulmino della polizia che l'ha portato al CPR e gli è scaduto il permesso di soggiorno mentre era in galera. Ma tu capisci che nel momento in cui tu finisci la tua pena perché l'hai finita esci e hai compiuto il reato di non aver rinnovato il permesso di soggiorno ma perché era in galera e lui mi sta impazzendo perché dice ma come? Io non ho avuto neanche materialmente la possibilità di ricostituirmi in senso di cittadino ospite di uno stato non esiste. Questo è il CPR bene allora chiudiamo questa pagina adesso una canzone poi puoi scegliere tu dopo di cosa vogliamo parlare di Caso Feltri o delle curve di Milano e Inter cosa preferisci? Ma velocemente tutte e due perfetto bene allora rimanete anzi qui con noi perché torniamo fra pochissimo e parliamo di questi due temi che sono belli caldi tutti e due che sembrano essere meno ma in realtà sono molto molto caldi e sentiremo dalla viva voce di Luca Paladini I Queen con Don't Stop Me Now allora ho detto a Luca se voleva scegliere uno o un altro tema gli hai scelti entrambi non mi faccio mancare da cosa vuoi partire? Allora ti chiedo questo Feltri o le curve del Milan? e Inter lascia il conduttore facciamo Feltri allora facciamo iniziamo con Feltri visto che comunque avete avuto anche un po' di bagare in aula e poi è un tuo collega appunto quindi da collega da collega di Vittorio Feltri cosa ne pensi? soprattutto ho visto che hai fatto contento anche Cruciani ieri che ha avuto da ridire sulla tua uscita sì non è la prima volta che Cruciani mi dedica dei pensieri vabbè dai diventerete amici allora sono ricambiato nel senso che non me ne frega niente Cruciani l'hai chiamato collega ma è una parola grossa nel senso che Vittorio Feltri guadagna non meno di 6.000 euro al mese ma è venuto sei volte come te però nel senso no ah no perché? no nel senso che spiegami mi sono perso da qualcosa io perché non è collega vabbè annetto che è tutto pubblico nel senso quanto guadagnano i consiglieri regionali è pubblico ok c'è poi una decurtazione in base alle assenze ah ok legate alla presenza in consiglio e alle commissioni ok però non puoi mai scendere sotto una determinata solda ah ok e il signore Vittorio Feltri che si è fatto vedere tipo 5 volte in un anno e mezzo per 5 minuti ogni volta porta a casa dei bei soldi a proposito di gli immigrati si rubano il lavoro tanto per dirne una tanto per dirne una quindi un mio collega sui generis nel senso che non c'è mai non c'è mai eppure guadagna un autostipendio quello che ovviamente è diventato tema di polemica politica è la sua dichiarazione vergognosa che una rappresentante delle istituzioni non si può permettere vale a dire di godere all'idea che i ciclisti possano essere investiti noi abbiamo fatto al netto di quello che è successo in aula dove abbiamo chiesto una mozione urgente che non c'è stata neanche concessa cioè non solo non è stata votata una richiesta di dimissioni ma non abbiamo neanche potuto parlare in una mozione perché la destra ha deciso che non se ne poteva parlare uno e due prima dell'inizio del consiglio fuori dall'aula sono venuti almeno alle 8 di mattina fuori dal pirellone sono venuti almeno 200 ciclisti è stata un'immagine anche molto bella hanno tutti messo le biciclette per terra si sono sdraiati e abbiamo ascoltato anche un papà che ha perso una figlia di 17 anni schiacciata in un incidente stradale con la sua bici e tu capisci che avere di fronte il dolore di chi ha subito una perdita di questo genere e metterla a fianco di una frase così sprezzante di uno che anziché che già al bar sport potrebbe essere è una battuta perché quella non è l'uscita appunto è buttata lì come una battuta esattamente però noi non possiamo permetterci che uomini delle istituzioni scambino il bar sport per appunto e poi devono sapere che ruolo ricoprono nel momento in cui tu dici godo quando un ciclista viene travolto viene schiacciato adesso la frase testuale non me la ricordo però nel senso questo tu stai dicendo una cosa di una gravità inaudita perché tu in quel momento stai rappresentando comunque un pezzo di sei una persona che ha un ruolo istituzionale quindi noi abbiamo chiesto le sue dimissioni per una questione proprio di dignità dell'aula e e lo abbiamo fatto anche per rispetto che noi dobbiamo a chi in questi anni sulle strade ha perso la vita in contesti di incidente i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti questa è la frase giusta è una frase inaccettabile noi che abbiamo chiesto le dimissioni manco se ne è potuto parlare vedremo se succederà qualcosa nelle prossime sedute o settimane sai già che non succederà nulla si salva anche questa volta Feltri ma sì è tipo Sgarbi quei personaggi a cui è permesso di dire tutto perché tanto a loro sappiamo che sono sempre sopra le righe ma non può funzionare così se hai dei ruoli istituzionali invece l'altro tema di cui volevo parlare con te appunto tu fervente interista opinionista sportivo anche ormai tv locali milanesi questa cosa che è scoppiata nelle curve di Milano Inter ma la domanda principale è non ci se lo aspettava chi frequenta gli stadi non è esattamente saltato sulla sedia di fronte a quello che è successo poi fino a che punto il fenomeno fosse radicato esteso uno che è fuori ovviamente non lo poteva sapere però che la curva facesse la cresta sui biglietti ma sono cose stra evidenti da anni sono cose che nessuno credo che possa essere si possa considerare sorpreso da questo il fenomeno pare in realtà molto più pervasivo di quanto ci si potesse aspettare e soprattutto sembra più pervasivo non tanto dentro lo stadio quanto anche fuori dallo stadio cioè nel senso che va a toccare tanti ambiti della città gli affari che producevano vero e proprio indotto e parliamo di centinaia di migliaia di euro su parcheggi su tu con il tuo food truck puoi stare qua o non puoi stare qua tu col e poi il merchandising e tutta una serie di questioni per cui e poi vabbè parte davvero di queste ricchezze accumulate da questi personaggi che adesso sono in galera sono figli del fatto che questi avevano i biglietti a 50 euro e li rivendevano a 500 questi biglietti a 50 euro da chi arrivavano scusa vorrei capire io come voi non ho informazioni maggiori leggo quello che sta emergendo dall'indagine e sembra che ci fosse una sorta di tentata estorsione in alcuni casi riuscita nei confronti di Inter e Milan che alla fine quindi anche tu pensi che le società siano appunto parte lesa in questa storia ma guarda qui penso che mi conosci io sono ovviamente un gran tifoso ma ho abbastanza lucidità per capire che in alcuni casi c'è anche della convivenza c'è un'incapacità a volte di avere il coraggio di recidere determinati rapporti perché nel momento in cui tu ricevi minacce cosa buona e giusta sarebbe quella di denunciarle non tentare di accontentare io trovo incredibile che un capo ultra abbia il numero di Simone Inzaghi e gli chieda i biglietti cioè per dirne una e che i giocatori si attivino per recuperare dei biglietti non può funzionare così in un sistema malato quindi probabilmente le società ovviamente hanno subito questa cosa però compito delle società sarebbe anche quello di provare poi a uscire da questo sistema mi auguro che di fronte a questo bubone che è finalmente io mi è già stato chiesto in altri contesti da tifoso come vivo questo momento la mia risposta è di liberazione ma magari ma magari siamo di fronte finalmente alla fine di questo sistema malato per cui le curve sono delle zone franche dove tutto è permesso la politica ha pensato che il contenimento del danno fosse vabbè ma succede tutto dentro lo stadio poi una volta fuori il problema non sussiste invece abbiamo capito che non può funzionare così perché come giustamente hai detto tu se si crea del business il business non resta all'interno dello stadio esce tra valica e poi quando si muovono tanti soldi chi si interessa di fenomeni del genere l'andrangheta non a caso le infiltrazioni dell'andrangheta sono presenti all'interno della curva dell'inter sicuramente ma probabilmente anche di quella del Milan e quindi il senso di liberazione è l'idea che siamo all'anno zero e si può ripensare un'idea di stadio dove il ruolo delle curve il ruolo degli ultra sia molto ridimensionato io vado ugualmente a vedere una partita di calcio anche se non ho la curva che mi fa la coreografia perché io vado a divertirmi per vedere una partita di pallone non perché ci sono 5.000 persone che lanciano i cori questo è fondamentale occhio a parlare di ricostruzione di stadio che qualcuno capisce male e pensa che bisogna buttarlo giù per fare un nuovo nuovo e attenzione penso che sai che io mi incatinerò mi incatinerò San Siro il rischio è quello Luca Paradini grazie mille di essere stato qui con noi questa mattina grazie a voi andiamo con la sigla e con i saluti finali quindi sempre qui 8.54 minuti Crystal Radio Puoi e